Dolcetto o scherzetto? Per fortuna dolcetto Ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Giappiazzoggi Siamo di nuovo qui ragazzi in un nuovo video Siamo appunto qui nel Giappiazz commentari Per commentare il post partita della mia Roma Ragazzi la Roma Che vince In casa con la Fiorentina per 2 a 0 C'avevo una paura Una paura dopo aver visto la partita L'ultima partita d'Europa League C'avevo una paura Questa era una partita da Citriolo E invece il Citriolo l'abbiamo messo noi Prima di parlare della partita Di parlare dei migliori in campo Dei gol eccetera eccetera Vi invito a lasciare tantissimi piace Quindi lasciate un piccolo supporto Un bel like E sotto nei commenti scrivetemi la vostra Che ne pensate del match Come ha giocato la Roma Che è stato il migliore o il peggiore in campo Fatemi sapere la vostra in generale Passate tutti quanti i miei link in descrizione Quindi andate a seguire tutti i miei profili social Ho aperto TikTok Ho aperto la piattaforma Viola Che ancora non inizierò a streamare Quindi venitemi a seguire anche sulla piattaforma nuova Che li streamerò nelle prossime live E seguite tutti i canali dei miei amici youtuber Che parlano di calcio e fantacalcio 360 gradi Canali molto interessanti Andatelo a seguire E appunto ragazzi Se siete nuovi Iscrivetevi Mi raccomando Al canale Attivate la campanella Perché Innanzitutto vedo che molte persone Che non sono iscritte al mio canale Se guardano i video Quindi Voi iscrivetevi Se non siete iscritti Non costa niente Un'iscrizione E attivate la campanella Che YouTube non manda i feed È importante E se avete perso gli ultimi video Vi lascio qua sopra nelle schede Andando a recuperare Parlando della partita La Roma mi ha sorpreso Non mi ha aspettato una Roma così Arrembante dal primo all'ultimo minuto Una Roma che ha vinto 2-0 Ma secondo me Se avrebbe vinto 3-0 O 4-0 Secondo me Avrebbe meritato di fargli anche più gol Perché veramente Ha giocato una porta solo La Fiorentina Infatti Secondo me Il peggiore in campo È stato Mirante Perché Secondo me 6 O senza voto Perché veramente La Fiorentina non ha fatto un tiro in porta La difesa è stata perfetta Il centrocampo è stato Tanta tanta roba E l'attacco è stato Ottimo Diciamo Tutti quanti bene Nessuna insufficienza Ragazzi Veramente La partita così Perfetta Non l'avevo vista Da un bel po' di gare Quindi Da un bel po' che non vedevo una Roma Che giocava Non sbagliava mai Dal primo all'ultimo minuto Ce l'ho sta a dire Veramente pochissime azioni Della Fiorentina E Parlando dei gol Appunto Andiamo a parlare dei gol Il primo gol Arriva al dodicesimo Quindi subito Il migliore in campo Ovvero Spina Spina Zola Zola Spina Spina Zola Zola È stata una spina nel fianco Una spina nel fianco Dal primo minuto Fino all'ultimo minuto Veramente Si è fatto la fascia Su e giù Veramente È stato Migliore in campo Cioè Secondo me Migliore in campo De questa gara A parte il gol Ma secondo me Anche a di fuori il gol Ha messo in difficoltà Molte volte la Fiorentina Quindi Ha fatto prendere cartellini Ai difensori Ha creato azioni pericolose E l'altro giocatore Che mi è piaciuto tanto Oltre a Spina Zola Dall'altra fascia Carsdop Carsdop È stata una sorpresa Perché non me l'aspettavo Una partita così intensa Mi è piaciuto tanto È forse la miglior partita Di Carsdop Di quest'anno Ovviamente Anzi negli ultimi due anni La miglior prestazione Di Carsdop Sono veramente contento A centro campo Tanta tanta roba Avere tu Tanta quantità Forse Forse un po' meno qualità Sto giro Stasettimana Un po' meno qualità Però tanta quantità Come al solito La quantità non manca mai Pellegrini Oggi Mi è piaciuto tantissimo Uno dei migliori partiti Pellegrini Di quest'anno Veramente Nelle ultime prestazioni Mi era un po' calato Pellegrini Invece oggi Mi ha fatto cambiare idea E Diciamo Se gioca sempre queste partite Con questi ritmi Secondo me A fine stagione Può diventare Un giocatore fondamentale Oltre a avere tu Cioè Già è un giocatore fondamentale Perché a fine Sono quei giocatori Però potrebbe essere Ancora più determinante Per la causa giallorossa Dzeko Come al solito Anche se non segna Giocatore fantastico Lì davanti Fa sponde Sportellate con i difensori Ha fatto prendere Se non sbaglio pure lui Qualche cartellino A qualche difensore Ha fatto partire L'azione del gol Del 2 a 0 Quindi Dzeko Mighitaria Il 2 a 0 Appunto arriva Al settantesimo Spinazzola Non vi ha parlato Del gol Il gol È tutto quanto suo Se l'ha procurato Tutto lui È partito dalla difesa Si è fatto tutta la fascia Si è marcato C'è stato un po' Rimpallo Con Martino Nesquarta Che veramente oggi A difesa della Fiorentina Stava per Veramente Per Cicoria Non lo so Do stava Veramente Stava per Boschi Veramente Uno scolapassa A difesa della Fiorentina Senza Pezzella Perde tanto A difesa viola E Diciamo appunto Se non fosse stato Per Dragoschi Che è stato il migliore In campo Secondo me Dalla Fiorentina Penso che avremmo vinto 3-4 a 0 Almeno Perché Dragoschi Ha fatto 3-4 interventi Miracolosi Su varie azioni E Appunto Il primo gol Arriva con Spinazzola Quindi un po' Rimpallo Di Martino E Squarta Comunque segna Spinazzola Bella 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 partita Il secondo gol Arriva al settantesimo Gol di Predro Enesimo gol di Predro Quindi quarto gol In questa serie A Tanta tanta roba In sei giornate Ha fatto quattro gol E tanta roba Dunque Sei giornate O me sbaglio Mi pare sei Sei giornate Sì quattro gol Assist di Mkhitaryan Pallone Appunto Sponda di Dzeko Verso Mkhitaryan Mkhitaryan Che crossa in mezzo E Pedro Lì davanti alla porta Non può sbagliare Quindi Finisce 2-0 Io sono pienamente Soddisfatto Che questa Roma Fatemi sapere la vostra Sotto nei commenti Ditemi Che ne pensate Che Roma Che tipo di Roma Avete visto Secondo me Secondo voi Con questa squadra Possiamo Non dico arrivare In Champions Ma comunque Provare ad arrivare In Champions A lottarcela Con il Napoli Con il Milan Ragazzi È una macchina da guerra Quest'anno Veramente Con la Juve Con la Juve Comunque lottare Per andare in Champions Secondo me Sì La Roma Se gioca come gioca oggi O comunque Se gioca su questi ritmi Può ambire A lottare Per un piazzamento Al quarto posto Al massimo Arriviamo Quinti Che sarebbe Comunque Il risultato decente Certo Quarto Dovremmo arrivare a quarti Per fare una grande stagione Comunque Fatemi sapere la vostra Un mi piace Un commento Una bella condizione Di iscrivervi Se siete nuovi al canale Attenere la campanella Se siete persi Tutti i minuti Qua sopra le schede E vi tengo aggiornati Su Instagram Per qualsiasi cosa Niente ragazzi Buon Halloween Perché è passato Comunque ieri vi ho fatto Gli auguri su Instagram Se non mi seguite Venite Ma segui già Vi ho fatto gli auguri Di Halloween Lì su Instagram Comunque niente Da qui è tutto E noi come al solito Ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi Sempre e comunque Forza Roma Sempre e comunque Forza Magica Forza Roma Forza Roma Forza Roma Dai Dai a Spinazzola Vamos Ciao ragazzi